Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della tecnologia Ci troviamo qui nella zona dei forni Perché voglio far vedere il lavoro asturdo che sto facendo ragazzi Veramente sto schiattando come un maiale, sono un maiale da soma Un muro da soma anzi, preciso Ho scavato tutto sto buco enorme, ricordate che qui c'era tutta la parete L'ho scavato tutto completamente a mano E Fraps mi esplode! Sì, che bello, mi fa piacere Allora Precisiamo Uno mi ha consigliato Metti video di quello che fai off camera Per poter dimostrare che non stai usando la creative Ma la soluzione migliore che ho trovato è, guarda, fare una chest E mettere tutta la roba che ho scavato Questo è tutto quello che è uscito Ovviamente la pislazzo l'ho già in inventario Questo è tutto quello che è uscito scavando Questa zona qui dei forni Cioè dovrei raccogliere anche sta roba nelle pareti Ma sinceramente non me va Ok, cosa mi manca adesso ragazzi? Devo mettere tutte le supplier Come ho fatto dall'altro lato Quindi supplier, 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 supplier Supplica, no Supplica, supplica, perfetto Anche qui, supplier Tutto sui metri, ragazzi Non c'è un blocco fuori posto Uguale qui sopra dove fa la stessa identica cosa Ricordate di premere shift Perché se non prevede shift Vi apre il macchinario Con shift vi fa piazzare la pipe Ok, mi serve logistic chassis Mk qualcosa E non ho preso le sandstone pipe Le sandstone pipe, ragazzi Sono le pipe di ossidiana Eh sì, di ossidiana Di arenaria, scusate Mi confondo sempre Arenaria e ossidiana Sempre Quelle di arenaria, ragazzi Non si attaccano ai macchinari Quindi ci permettono di fare Un tubo che passa davanti al cocoven Senza che va a finire all'interno Come la cobblestone Vedete se io metto la cobblestone Va all'interno Oppure invece di mettere Le pipe di arenaria Anche se sono più carine Si possono mettere le pipe basic Perché sapete che Gli incroci Bastano a basic E capisce tutto quello che deve fare Infatti io metto le basic Cosa che te dico Mi spargo tempo Invece andando a prendere Quelle di sandstone Ok, quindi qui basic 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 Vedete ragazzi Se è tutto simmetrico Non c'è un blocco fuori posto E fra un macchinario e l'altro Ci mettiamo una cobblestone Ok, devo collegare anche qui Quindi verranno un paio di incroci Quindi ci verranno un paio di basic Allora, l'incrocio va qui Senza dubbio Qua E un incrocio E un altro viene qui Perfetto Ecco l'altro incrocio Qui si sale su E si sale all'altezza Del secondo cocoven Tutto uguale ragazzi Tutto perfettamente simmetrico Non c'è un blocco Ricordate ragazzi La simmetria È molto Non è importante Però fa figo Oh, staccate Ok, qui ci va la basic Con l'MK2 Vai, MK2 MK2 Cobblestone Basic Guardate che figata ragazzi Che sto creando Che ne pensate? A me piace sinceramente Poi io non so Ovviamente Una mucca È giunto dalla noia Craft qui per uccidermi Mocca bastarda Muori È morto Ok Riprendiamoci Allora, torniamo al gioco Via Allora Dicevo Mi sono perso Le basic pipe Vedete come collego il tutto? Tutto identico Non c'è un coso Basic incrocio Basic incrocio E sto creando Questo sistema simmetrico Ragazzi In modo che posso mettere Tutti i cacchio Di forni che voglio Cioè se io adesso domani Mi è più a male Tra dieci video Mi è più a male Dico I forni che ho Non mi bastano Mi metto a fare altri Proprio Senza problemi Proprio Spensierato Ok Intanto io metto Sulle tuppier Un bel filtro Di quattro zucchero Perfetto Ogni supplia Mettiamo quattro zucchero Così si può fare shift No manco per il caso Si può fare così Però sì Così sì Ok Supplichiamo tutte Quattro 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 E in ogni MK2 commesso Mettiamo un extractor Perché la supplia Richiede lo zucchero E tranquilli che arriviamo Lo zucchero Arriva da qua Bellissimo Mentre L'extractor Estrae il risultato Successivo Che sarebbe Lo zucchero Karchkoal Poi Poi ragazzi Lo zucchero Può essere ricotto Esatto ragazzi Perché non c'è bisogno Solo di un Come cacchio Si chiama Non c'è una sola cottura Lo zucchero cotto diventa Sugar karchkoal Ok Ma la sugar karchkoal Può essere ricotta Per diventare sugar karchkoal Già ve l'avevo detta Sta cosa Ma fa sempre bene Ricordarla Perché non dici E si perché C'è sempre qualcuno Che non capisce Quindi è importante Ripetere Almeno comprendere Ragazzi Fatelo per loro Abbiate pazienza Abbiate pazienza Diamo l'extractor L'extractor Vedete come faccio Con molta calma E tranquillità Grazie l'extractor Sugar E sugar Et voilà Ecco qui La nostra prima fila Di impianto è fatta L'unica cosa è che Perché non ho lo zucchero Però lo zucchero Perché non è arrivata a casa Lo zucchero Oh Casa Ma stai a produrre Dov'è il legno? Dite che notte Ho finito Ho cotto veramente Tutto il legno? Cioè l'impianto Ha smistato tutto il legno di casa? Cioè sono stabile Con il legno? Bello raga Bello Sono stabile con il legno Tutto il legno di casa È stato smistato E cotto Wow Wow ragazzi Wow Veramente wow Mi piace sta cosa Mi piace Ok Comunque io ho finito i forni Devo smontare quelli di casa E portarli qua Sinceramente adesso Non me va Me lo faccio poi Poi off camera Sì A casa quanti forni ho? 1, 2, 3, 4 Ne ho più di 5 Più di 10 Quanti ho a casa? 6 Qui manca qualche blocco Poi quelli sopra Vabbè Sì alla fine Se può fa Ok Torniamoci a casa Prendiamo il nostro trenino Che bello Mi piace prendere il trenino Vai col trenino Devo stare attendo un po' gli zombie Anzi Sapete che faccio? Mentre passo Piazzo le torci Posso? No 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 Bastardo Oh Oh Quelli mi sono venuti dietro Stanno pure sui rotaio Via Andavosene Fuga 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 Ragazzi il trenino mi ha abbandonato Torciamo tutto qui Perché almeno non mi spawnano i mob sulle rotaie Eh sì Perché finisce male Se spawnano i mob sulle rotaie Faccio boom Ci rimango proprio triste Ebbè Raga andiamo a piedi Che devo fare? Ok Eccomi a casa ragazzi E' successo un casino Che cacchio Che cacchio sto facendo? E' successo un casino La cesta è esplosa Ah è per quello forse No 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 Ma come niente Quella è la gomma? No Dai No 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 Non è possibile Ok ragazzi Dobbiamo cominciare a spammare roba della Grektek Togliamo questo Perché noi ci mettiamo la gomma Che qui Vabbè no Questa è la gomma Questa così serve Eh sì ragazzi Mi metto a cuoce la gomma Invece che legna normale Qui per forza Cioè devo smistare anche quella Anzi togliamo un'argilla qua Che ha rotto le pala Otos Anzi no una la lascio Perché serve E qui mettiamo la gomma O almeno uno di argilla Lo lascio lì Perché almeno mi cuoce tutta l'argilla Con molta calma E sangue freddo Ok Matonda quanta roba Ragazzi è un casino Devo fare uno smistamento automatico Che Wow Non ho possibilità ora In teoria sì Pensiamo Molto bene ragazzi A quanto pare Il problema gomma Sta degenerando Dobbiamo risolvere il problema gomma A parte la sandstone Che sta arrivando a quantità disumale Io non capisco che problemi ha Questa sandstone Ma vabbè Pure le mele Lasciamo perdere Allora Sì ripeto La gomma sta diventando Un serio problema Ho bisogno di centrifughe Tante Milioni Di miliardi Di milioni Di miliardi Di centrifughe Come si faceva una centrifuga Vediamo un po' Che non mi ricordo Advanced machine casing Circuiti avanzati Piastre di nefana e d'iron Ah Non speci Ok Ne ho 64 Non me ne servono 4 Più 4 Basta Ok steel machine Ok devo piastrare dell'acciaio Devo fare altre Devo riattivare le farm No non è vero Quanto acciaio ho 60 Allora con uno stack Ci facciamo 8 8 No de meno Sì ci facciamo 8 machine E ce ne servono 2 ogni craft Quindi vengono 4 centrifughe Con uno stack Cioè prendete conto Di materiali che servono Per questa cazzo di crack tech Cioè voi vi rendete Almeno conto Dei materiali Quindi con uno stack Di piastre Faccio 4 centrifughe Quindi qui sono 8 centrifughe Non mi bastano 8 Voglio almeno 16 Quindi voglio altro acciaio Devo riattaccare Basic Dove sono le basic Scusatemi Basic Gc pipe Basic Ah va bene anche una copless Ah ma c'è l'inventario Che babbo Sono un po' babbo Non ci fate caso Ok vediamo se i filtri L'ho lasciati o l'ho tolti Non mi ricordo L'ho tolti Perché sono scemo Vedi Di qua l'ho lasciati No l'ho tolti pure lì Perché ho scollegato Se i filtri l'ho tolti Scusa che problemi ho Risparmio corrente Mamma mia che risparmio Guardate la roba che passa Intanto dal query Io veramente non ho parole Quando cominceranno A arrivare i minerali Ragazzi c'ho paura Mi devo sbrigar A fare ste centrifughe Prima possibile Ok Preparatevi che i prossimi Bisogni saranno molto craftosi Molto ma molto 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 perché devo Cominciare a Fare un impianto Che possa supportare Quel query E poi possa supportarne I quattro che girano insieme E qua la gente farà Eh Spero voi facciate Eh capite capito Esatto ragazzi Farò minimo Quattro di quei query Che girano in contemporaneo A botta Cioè quindi minimo De un S in quattro Che girano E poi in futuro Vedremo se aumentare 8 Vediamo un attimo Devo organizzarmi Un po' con la serie Devo vedere Allora intanto Metto a cuocere Sto ferro Così facciamo Un bel po' Di refane d'iron Eh si ragazzi Bisogna avere pazienza Questo è così La greg tech è questo Voi dire della Blah 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 Però credetemi Verranno fuori cose epiche Ci vuole solo un po' Di pazienza Ok Refane d'iron si sta facendo Poi bisogno di ferro Filtrato Che vada lì Al Alle fornaci Quindi metto 32 di questo E 32 di carbonella C'ho della carbonella Nella cesta delle dei cosi Eccola qui Questi 32 ferro E 32 di carbonella Li aggiungiamo al filtro sopra Come avevamo fatto all'inizio Delle blast furnace Perché questa è sempre Una supply ragazzi Ricordate La supply rifornisce Quindi 32 32 Ci fornirà sempre 32 di ferro E 32 di carbonella E lo faccio pure di là Lo sai? Lo faccio pure di qua Alla faccia tua Stavolta hanno un 32 Ma un 31 Alla facciaccia doppia tua Alla doppia e tripla facciaccia tua E ci metto anche 23 di ferro Perché non mi va di fare il giro Un'altra volta 37.537 volte Vai Perfetto Lasciamo cuocere l'acciaio Ragazzi Avevo bisogno di nuovo di acciaio Potrei fare Le machine hull Queste qua Che si fanno Con le devanze d'alloe Però guardate Richiede anche Refane d'iron Capite? Cioè non è che sia facile Come processo Ok È vero La Gregtech Non considera lo steel machine hull Sinceramente Dovrei anche togliere Perché infatti Dovrei usare le devanze machine casing Vabbè Adesso usiamo l'acciaio Ce l'abbiamo Dov'è il problema Poi ci stiamo facendo troppi problemi Che non ci sono Guardate Le devanze machine hull Non la faremo poi Ma che chissime Sinceramente Ok mettiamo a pestare questo ferro Mi servono rolling machine Rolling 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 1, 2 1, 2 Vai Rollami l'acciaio Rollami l'acciaio eh Non facciamo doppi sensi Perfetto Ok Ho rimediato un bel po' di piastre Ho uno stack Un bel po' Se sentite rumori strani Da sottofondo Non ci fate caso O è il cellulare O è i suoni idioti Che siano dall'altra volta Vabbè Niente Quelli sono dettagli Allora E qui è successo Un macello Mi sono allontanato 10 secondi Mentre aspettavo Che craftava E sta esplodendo Tutta la cesta Io non so che fare Con questa cesta Mi devo inventare qualcosa Voi dire Metti un'uscita automatica Sì Vai Ci sto Facciamolo Vediamo che succede Perché Dove è il rischio Facciamolo entrare da sotto Vai Stagli sto cavo Dalle me Leva Basic pipe Request Allora richiediamo Perché io non voglio C'ho paura di perdere tutto Ma vabbè Fa niente Richiediamo questo Richiediamo questo E richiediamo questo No 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 Questi no Questi no Questi no Questi non valgono niente Ok devo mettere anche un valore Alla rubberwood Metto un valore tipo La linea normale Tanto Chi se ne fotte Questo Questo Anzi un valore più basso Della linea normale Perché vale di meno Perfetto Ok adesso tutti i sapling Di gomma Tutti i sapling normali Andranno lì dentro Ci metto pure la gomma Madonna dai Ma che sta a fare Ok pure la gomma Basta sto fatto Troppa gomma No non si arriva più Tutti trasformati in enderpress Tanto le enderpress servono Ragazzi dobbiamo fare testere Dobbiamo fare i chunk loader Dobbiamo fare tutto Quindi via Tutto lì Eee Guarda la gomma che esce sparata via Ok Adesso abbiamo filtrao tutto eh Adesso non rompe le palle Stupide il gioco Spacco la testiera Spacco Spacco La 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 metto a mano Ok Allora No me la stavo tagliare ragazzi Se lo legge un commento Uno mi ha scritto Xander ti prego Basta crafting Secondo te io mi sto divertito Cioè minecraft lo vedo come voi eh Cioè non è che Ok che mi piacerà un po' di più Che ci sto molto più tempo Ma la vedo come voi Cioè non la faccio più a craftare Sto diventare scemo eh Cioè solo per craftare Eee Tiè Dai dai Per favore La prensa è già finita Non so se la prensa elettrica Ma come il cazzo Bu Posso? Proviamo Non ci ho mai provato Vediamo se la prensa elettrica va Dove l'acciaio? Oh acciaio Si so distribuire Ma in un Si Figato Eh vabbè me ne fa solo due Però è vero M'ero dimenticato che faceva schifo Stupida prensa ritardata Le butto tutte queste prensa Le butto eh Non servono a niente Prendiamo a refanel Refanel Dai no ma Facciamo altre prensa Ecco Vai Oh ho smontato la crafting table Serio? Ma non è vero mai La prensa della Greta che smonta la crafting table Ragazzi What the fuck This is Gregorius T The monster Ok abbiamo 19 Casing Sa che so Non sono giusti Non è come avevo previsto Sinceramente Ok abbiamo 17 acciaio Però 17 acciaio Lo possiamo aggiungere al piastro Qui Al piastro Pestriamo 17 acciaio Ma vai Pestriamo tutto Allora abbiamo 20 addirittura Ragazzi Con 20 posso craftare 10 Centrifughe Oh 10 centrifughe Già sei ragione Già mi piacciono Allora La centrifuga consuma molto poco Quindi problemi Non ce ne darà Poi vi farò vedere Vi farò vedere poi 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 vi farò vedere poi Le piastre di refanel Non ce le faccio subito E a devance al circuit Potrebbero essere un problema Ma ne servono quante di queste Quindi 20 ad avance al circuit Quanti circuiti ho? 4 Si che bello Quindi serve la gomma Che io ho buttato fino adesso Che adesso mi serve Ecco quindi Sono un coglione Vedi quando uno è coglione È coglione Stacca so cosa Perfetto Gomma ci sei? Come va? Eh? Ho buttato tutto là dentro Vedi perché sono scemo Ok rubber Vabbè ma tanto è abbastanza Questa non vi pensate Cioè sono comunque 4 stack Quanti so Prendo un po' di rame E vediamo quanti cavetti Vengono fuori Voila Beh Magari basta Io non volevo presupporre nulla Ma magari questi cavetti Potrebbero bastare Potrebbero eh Poi ovviamente non do nulla per scontato Ok mettiamo una carne qua dentro Magari va in autocottura Non mi ricordo se il filtro ancora c'è E andiamo a craftare dei circuiti normalissimi Non questi con il diamante Oh basta Voglio questi Vai craft 45 circuiti Dite che basta Non lo so mica La bislazione La glowstone ce l'ho Perlomeno ce l'avevo Glowstone Glowstone Ok quanto è detto che me ne servono? 20 giusto? Vai Solo 9? Perché solo 9? Ah manca la redstone Sì ripeto Se sentite urli strani ragazzi Dite dite col babbo Stanzi torri dottato Scusa la colpa mia Li faccio 23? Ma che cacchio mi fotte? Sì 32 circuiti Poi farò 34 Sì ma che cacchio mi fotte Ok l'unica cosa che mi manca Dell'extractor No l'extractor no Devo fare i treat up Devo svuotare tutto l'inventare Perché i treat up non staccano ragazzi Devo metterli uno per uno Cosa? No No Mettiamo a piastrare le fanne d'iron Ma Vediamo la plate bending Dov'è? Lasciamo piastrare le fanne d'iron Intanto mi metto a craftare i treat up Come un deficiente Ok ragazzi Le ultime 4 piastre Allora sta plate bending È veloce eh Però ne fa una alla volta E quello è il problema Quindi è veloce ma lenta È veloce a craftarne una Ma le altre Mi bianco il colore Per farle Ok ragazzi Craftate giuste giuste Dovrebbero bastare Vediamo Ora non lo so Vediamo un attimo Sì sperando che la French Sperando che la French Me la dia buona Non è stata buona Stupido French Bastardo A pezzo di zero Ah sei Sei l'ingotti Ti pareva Mi sembra ovvio Che manca qualcosa Ti pare che tutto viene liscio E pelato come l'olio Ok Una French E altre piastre Ok Dovrei essere arrivato 10 Machine block Perfetto Adesso posso fare 10 extractor Basta mettere machine block Circuito E 3 tappa go go 1 per 1 Che bello Craftare su Minecraft 1 1 Ancora 1 ragazzi Arrivo a 10 2 6 3 6 Vai Ancora 7 Io vi lascerei qui A farmi assorbirvi Tutto questo Guarda Non lo faccio solo Perché voglio bene Ragazzi Ma lo faccio off camera Perché mi state simpatici Guarda 1 2 3 Dai l'ultimo Ce lo posso fare Mi sa venire un crampo al dito 2 3 4 Allo contrario 6 6 Ce l'ho fatta Automatic extractor 10 Oh posso craftare No Manca qualcosa Che problema Ah le piastre Giusto Le piastre delle fare Dai non Mi pare giusto Me ne servono 40 Io ce ne ho 50 Nice Ok ragazzi Io ho tutto Craft centrifuge Bam Ok ragazzi Ho craftato 10 Industrial centrifuge Questo video è dedicato All'industrial centrifuge Basta Deciso E ne abbiamo 10 Più 2 12 E tutte queste centrifughe Ragazzi Andranno Andranno Che ho detto? Che lingua è? Non la conosco Vabbè Comunque Volevo dire Tutte le centrifughe Andranno a lavorare Con la gomma E ci produrranno Metano e plantable A go go Le plantable Poi vi farò vedere A che servono Mentre Le carboncelle Queste noi che conosciamo Ci serviranno per altra roba ancora Che adesso non vi spoiler Allora Sto prendendo tutto questo tin Perché Adesso che finisce il video Io Smetto di piastrare Tutto questo refan E di aver rotto le palle E ci metto tutto tin Sì ragazzi Dobbiamo fare tantissime Milioni di miliardi Di piastre di tin Perché col tin Ci facciamo le celle Quindi dobbiamo fare Milioni di miliardi di tin Piastrato Faccio le celle E poi vi faccio vedere Nel prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao ciao